Risai e fabbriche, le montagne del Sichuan, flora e fauna di laghi e stagni fra i canneti del Nenguin. Una popolazione frettolosa alla ricerca di un benessere industriale ed economico a cui di contro fa eco il silenzio di paesaggi mozzafiato. Terra di contrasti, la Cina di cui questa mostra offre uno spaccato al visitatore che si affaccia al complesso di San Michele a Ripa, Roma. La mostra, curata dall'architetto Mario Occhiuto, che ha già realizzato installazioni per il padiglione italiano all'Expo di Shanghai, celebra l'anno della cultura cinese in Italia. Sottotitolo La protezione dell'ambiente in Cina per uno sviluppo sostenibile. Ad inaugurarla il vicepresidente della Camera Rocco Buttiglione e l'ambasciatore cinese nel nostro paese Dingwei. Le immagini della Cina di oggi, i suoi contrasti, le sue aspirazioni scorrono lungo le pareti come da una grande muraglia. Un monito ad un paese grande che aspira ad esserlo sempre di più, a considerare nello scenario futuro la salvaguardia di un ambiente prezioso ed ancora per larghe aree incontaminato.